Poi di nuovo l'acqua, stacco Panoramica Tiretano Gai Panoramica Su casa vuota Sta qua Se piace a Gaetano per fare il caffè Questa sembra un carrello Il carrello segue Gaetano Quando bussa alla porta Gaetano guarda diapositive Più cambio fuoco Diapositive Noi siamo ai soliti Noi siamo ai soliti No Capita Fai, sei lo, la piazza da Che significa te che fai? 5 euro 5 euro 5 euro Saliamo alla faccia E' lui che dice con lo sguardo rivolto a Carmine Aio di una sigaretta Esatto, a questo punto tu gli vai addosso Rocco si scaglia contro lo showman, lo afferra per l'accappatoio e lo alza il peso dalla sedia Lo showman è grosso, persino Rocco ha difficoltà a spostarlo I due colpi si agitano attaccati Però ha la sua aggressione Blocco con la pistola E questo lo mettiamo già bello speso Però noi potremmo mettere pure un altro divano qua Poi dopo ti alzi Poi dopo ti alzi Qua lì c'era un tempo strano qua E' un po' più lunga Rimane qualche secondo ad osservarlo Fermo sotto l'arcata della porta Poi guarda la macchina fotografica Che magari starà qua La sgancia dal cavalletto Motore Azione Seguilo 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 Oh Oh G E' proprio schifato E' impaurito Eh Oh no ma che fai? No ma che fai? No ma che fai? Oh 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 Bra Dobbiamo fare l'applauso Eh A fare l'applauso quando vi riusciò Che capi? E facciamo l'applauso al showman La fattuccia rupas È La fattuccia rupas La fattuccia rupas È È È È È È È È È Grazie a tutti.